Cristiano Colombi foto amatore io lavoro in una cooperativa questa foto la dedico a mia madre che purtroppo sta passando un periodo un po brutto scattata due mesi fa circa praticamente io dopo lavoro spesso vado con la macchina fotografica scatto qualche foto quella a Livorno e quel giorno per appunto c'era c'erano gli allenamenti dei gozzi qui a Porto Medicio proprio qui dietro e mi venne di scattare questa foto quando si incrociavano i gozzi i gozzi rappresentano molto Livorno è una delle caratteristiche di Livorno e credo che sia proprio una passione per il Livornese andare in mare con la barca con i gozzi e a partecipare al Palio Marinario e tutto il resto è molto felice già felice di essere arrivato gli ultimi dieci quello soprattutto è una gioia e niente spero di vincere quello sì però per me è già una vittoria questa quando sei già arrivato gli ultimi dieci